Questo annuncio è per Nike Air Max! Hola Flamingo, ciao Fennecattere e bentornati in questo nuovo video! Qua chi è Charlotte Em e oggi siamo qua perché Nike mi ha inviato queste scarpe super fantastiche con cui potrò realizzarci insieme tantissime cose che dopo vedete ma insieme a queste scarpe la Nike mi ha inviato anche un messaggio che adesso vi leggerò Nati dalla creatività e da un grande sogno, vogliamo darti questi Air Max per aiutarti a realizzare cose che non avresti mai immaginato prima è ora di essere creativi, giocare e divertirsi pronti a divertirvi con me ma insieme a me ci saranno anche tantissimi altri miei amici che adesso vi mostrerò quindi amici arrivate! Eccoli qua! Allora a noi ci hanno detto di arrivare qua e abbiamo trovato questa Ferrari, non sappiamo il perché ma c'è scritto un messaggio De Flores Lava trova la scatola con le chiavi quindi credo che bisognerà sfidarci a De Flores Lava? Credo proprio di sì Vinceremo una Ferrari? No, quindi le chiavi sono della Ferrari, ok andiamo a giocare subito, ok? Andiamo? Sì Dove dobbiamo andare? Non so te Cosa? Porta là C'è un indizio, c'è una fredda Eh, questa qui porta lì Di là, di là, di là, ok? Ok Oh mio Dio, la piscina è gigante È bellissima No Ok Un fennicottolo, questo fennicottolo è bellissimo, deve essere mio per forza Ci sono dei bigliettini Aspetta Leonardo Tommy Quindi io, Leonardo e tu, Tommaso Sì Non è che sono le squadre, io devo stare con Leo e tu devi stare con Tommy Ok, ok, ok Giochiamo a De Flores Lava per la chiave della Ferrari A squadre Ok, a squadre Esatto Ok, ottimo E questo spiega perché ci sono tutti questi gommoni Sì Pronti a giocare Ok, là, pronta? Pronti Si vince, va bene? Sì Pronta a vincere? Sì, prontissima Dobbiamo vincere tutti Sì, dobbiamo spaccare oggi Ragazzi, c'è una scatola lassù Dove? Ma non è davvero? Perché magari quella... C'è le chiavi della Ferrari Esatto Ok, pronti alle postazioni Sì Bisogna iniziare a giocare, ok? De Flores Lava 3 2 1 Ok, ok Non devo cadere giù No, 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 no Ok, rimani su Rimani su Non devo vincere Stai fermo Fermo, fermo Aiuto Ciao, Ruggi Ah Chiudo Per me puoi cadere No, no, no Io non devo cadere L'Ilaria è già caduta Vai, Ilaria Ok, ora che Ilaria è morta Devo vincere per tutte e due Allora Il pavimento non è più lava De Flores Lava 3 2 1 Ok, allora Leo, io cerco di andare lo stesso Ok, prova Si stacca questo Attenta, mi raccomando Ok, sì, sì, sì Ok Ok Brava Il pavimento non è più lava Corri Devo vincere Ok Ho vinto Ho vinto Ho vinto Ho vinto Ok Grazie alle scarpe Si sono riuscita Fate 5 Si sono riuscita a correre veloce Ok Andiamo ad aprire la Ferrari Si È nostra Ok Ok, è stata qui Pronto Ok Prendiamo le chiavi Ok Ok, queste Entriamo Vediamo Non entrano Sei sicura Ma prova Tutto questo sforzo Per niente C'è Ilaria laggiù Ragazzi Ho trovato un'altra sfida Ciao Ilaria Oddio Seconda sfida Prendete i più palloncini possibili PS In uno c'è la chiave Quindi c'è un'altra sfida E questa è la chiave errata Dove sono i palloncini? Andiamo lì a cercare Forse ci sarà un'altra freccia Dobbiamo sempre andare nella piscina Ma quale Guarda Guarda c'è un cartello Non l'avevo visto prima Ok Eccoli Ci sono quelli i palloncini Si In uno di quelli c'è le chiavi Quindi bisogna prenderli Allora Io sono vestito di più Quindi secondo me Dobbiamo andare qua Allora noi Ma dobbiamo prenderli E metterli qua dentro Quindi Aspetta che mi sistema Ok Charlo tu sono partito No Così perdiamo Ok Allora Vai vai veloce veloce Chi è un po' Ah Oh Non c'è Qua non c'è Prendiamo 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 Ah Ah Ho sentito cadere qualcosa Si E la chiave è cascata Questa Nostra Vinto Noi Vinto 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 Noi 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 Che scadere Speriamo non sia questa l'ultimo Lo spero anch'io Ok prova Bravo Si Però è troppo piccola Ragazzi Non è finita qua Cosa sta dicendo? C'è una terza sfida Possiamo ancora vincere Tersa sfida, andate dai palloncini ed entrate nell'ultima porta Inizia la caccia alla Ferrari Muoviamoci Leonardo No, no, no Qua erano i palloncini giusto? Ma non ci sono più Una prezza, una prezza Entriamo qua allora Ok qua c'è una porta C'è una fossa bianca, siamo noi la facciamo È la nostra casa per la caccia al pesaro Ok, vogliamo andata a cercare un altro indizio Ciao Ci siamo più veloci Troviamo la fascia nera Ok, bisogna trovare un indizio, capito? Comunque queste scarpe sono veramente fantastiche Veramente, lo pensavo anch'io Si corre benissimo Esatto, sono comodissime Se vinciamo è grazie a queste Esatto Ok, bisogna assolutamente vincere Qua non c'è niente Guarda cosa ho trovato C'è qualcosa dentro Ok, una benda Forse deve essere un indizio Una benda Ok, la benda Quando si dorme la camera C'è, davvero E ci dovrebbe essere una camera Ok, questa è una camera Sicuro Oh, Leonardo Leonardo, una bosta Ho visto bene Oppure Oddio Un lecca lecca La forma di qualcosa Che si trova in In bagno Ok, andiamo in bagno Ok, andiamo veloci Eccolo Eccolo Questa Ok Ok Dentro No Su il tavolo Dentro Frigo magari Diciamo cosa Cosa sono? Pantaloni Quindi Pantaloni Armadio Quindi camera 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 Mi faccia la camera Ok Ma Ma Ci si spacciano i capelli Dentro lo specchio Giusto? Ok Dentro lo specchio Non c'è niente Sto dietro? No, neanche Ma perché Troppo sempre io? Troppo brava Ok, ok In cuscina Forza Vieni Ok Ok Gonfiabile Il gonfiabile Vai in piscina Ok Ok, piscina Le chiavi Le chiavi Dovrebbero essere qua Da qualche parte No? Là c'è un coso rosso C'è le chiavi Guarda Sono le chiavi Della ferrari Ragazzi Guardate Ok Chiavi Le abbiamo già trovate Ciao Corri 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 Oh mio Dio È ancora più bella È spinta da volare Aperta è molto più bella Ok ragazzi Grazie a queste scarpe Sono riuscita a compiere Tutte queste azioni fantastiche Se volete scoprire anche voi i marks Basta andare nel link In descrizione E ispiratevi al video Datevi tantissimi consigli Suggerimenti Più folli possibili Più innovativi Io ce ne ho Quello che mi colpirà di più Nella community E io vi mando Un grosso bacio E adesso è arrivato il momento Di gustarmi la Ferrari Vieni Leo Entriamo Un saluto da me E delle mie stupende Nike Air Max E mi raccomando ragazzi Rimanete aggiornati Per rimanere sincronizzati Con le mie scarpe Nike Air Max 9 Andiamo Che facciamo adesso? Andiamo a correre Di tanto abbiamo vette scarpe Sì Da se ci siamo va bene Guarda Ciao ragazzi Ciao ciao Che bello Ciao a tutti 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 Grazie per la visione!